Calendario scolastico 2022-23 Ponti 2023, migliori calcolatrici scientifiche, i promessi sposi, podcast, mappe concettuali, date maturità 2023, tema sul ritorno alla normalità dopo il coronavirus, temi svolti, riassunti dei libri argomenti trattati, eredità e ambiente, deriva genetica, drift, emigrazione, l'equilibrio di Hardy-Weinberg, i processi riproduttivi eredità e ambiente e i fattori ereditari e quelli ambientali, interagiscono a vari livelli, con diversa intensità, per determinare le caratteristiche individuali e, o, specifiche, i contributi di uno o dell'altra parte, ambiente e eredità, sono alquanto variabili, infatti ci sono alcuni caratteri determinati unicamente dall'eredità, colore occhi, altri invece solo dall'ambiente, ferite, ma la gran parte dei caratteri sono dovuti a interazioni, sinergismi, tra geni e ambiente, un esempio è il colore del pellame nei conigli e nei gatti siamesi perditi, o la formazione di clorofilla solo in presenza di luce, o la fioritura solo a determinate durate di illuminazione, e infine le malattie infettive di origine ambientale, il cui impatto dipende dai vari tipi di genotipi, che possono determinare sensibilità immunologiche, e speste monanti. La variabilità mostrata da molti caratteri non è adatta alla classificazione in gruppi genotipici separati variabilità discontinua, ma forma uno spettro di fenotipi che si fondono passando da un tipo all'altro variabilità continua. I caratteri qualitativi sono in genere determinati da un solo all'il, quelli quantitativi, statura, peso, da numerosi geni sistemi, poligenici, l'effetto di ogni singolo gene è impercettibile. Inoltre la variabilità fenotipica nei caratteri quantitativi ha una componente ambientale relativamente grande, e una componente genetica piccola. Studiando un carattere quantitativo in una popolazione di grandi dimensioni si osserva che pochi individui possiedono fenotipi estremi, mentre la maggior parte si trova verso valori medi, es, statura. Riportando i risultati su un grafico, si ottiene una curva di frequenza a campana, curva di Gauss, detta anche distribuzione normale. Fu Galtona a introdurre nella genetica metodi da analisi statistica. Nasce così la biometria, concepita per evidenziare i fenomeni evolutivi. Il valore fenotipico medio di un carattere con distribuzione normale è la media aritmetica. La grandezza più utile è la deviazione standard, S o DS, che su un grafico corrisponde al punto di massima pendenza. Essa indica la dispersione dei singoli valori. Altra grandezza è la varianza, S2, essenziale negli incroci e negli allevamenti, dato che essa può essere divisa in diverse componenti, genotipo, ambiente, deriva genetica, drift, e migrazione. Immaginiamo un'isola con 30 persone sopravvissute ad una catastrofe, tra cui un capo tribù etero zigote. Per un'anomalia alla vista, acromatopsia. Anni dopo, il 50% dei discendenti è malato discendenza del capo di allora, in cui il carattere singolare si è fissato grazie alla riduzione numerica della popolazione. Un altro esempio è l'albinismo, che in alcuni paesi alpini isolati si manifesta 100 volte maggiormente. Il fenomeno è più evidente quando le dimensioni di una popolazione hanno subito una drastica riduzione e quando la popolazione è rimasta geograficamente isolata. Si dice che l'albin singolare è stato fissato, mentre gli altri sono pressoché estinti. A meno che non ci siano mutazioni o migrazioni, la fissazione e l'estinzione sono irreversibili. Nel caso dell'isola, dato il ristretto no di fondatori, si parla di effetto del fondatore, founder effect, per cui la distribuzione genica di un isolato, comunità con pochissimi immigranti sparata dal resto della popolazione, riflette la distribuzione dei geni dei fondatori. La concentrazione di una singolarità è segno tipico di un isolato. La presenza di certi geni nei fondatori e l'isolamento sono dovuti al caso. Su una singola generazione il caso può avere diverse conseguenze. L'evento più probabile è la nascita di figli con frequenza genica. Analoga ai genitori in media più una popolazione è grande, meno è soggetta a deviazioni delle frequenze geniche. L'accumulo di eventi casuali porterà in periodi lunghi alla fissazione di una lille e all'estinzione di tutti gli altri, la probabilità di fissazione. Dipende dalla frequenza iniziale della lille. Il tempo necessario per la fissazione o l'estinzione è in media una funzione delle dimensioni della popolazione. Il processo per cui le frequenze geniche sono soggette a fluttuazioni dovute al caso viene chiamato deriva genetica, drift, tale. Fenomeno è una causa di variazione delle frequenze geniche nel tempo. Esso ha effetti tanto maggiori quanto minore la popolazione. Gruppi separati e dispersi sono il risultato di migrazioni, che possono sia frammentare la popolazione originale in piccoli gruppi S. Tribù, sia accrescere l'omogeneità di una popolazione, possibile genesi delle etnie e delle razze umane. In qualsiasi società qualche movimento migratorio è inevitabile. Matrimoni. Un effetto della migrazione è l'eliminazione parziale degli effetti del drift genetico maggiore e la migrazione, minori saranno. Le conseguenze dovute al drift. Dato che le migrazioni tra popolazioni limitano gli effetti del drift, alla fine vi sarà un equilibrio tra migrazione e drift. Quando le migrazioni sono unidirezionali, cioè implicano scambio di geni a bassa frequenza e in una sola direzione, si parla di flusso genico, che può mutare la costituzione genetica delle popolazioni coinvolte. L'equilibrio di Hardy-Weinberg in una popolazione ideale che sia panmittica, cioè vi siano solo incroci casuali, nella quale non vi siano mutazioni, né selezione, gli individui hanno uguale possibilità di sopravvivere, né movimenti migratori, e che sia formata da un numero elevato di individui per cui possono essere usate le leggi delle probabilità, le frequenze alleliche rimangono costanti, da una generazione all'altra. L'equilibrio è espresso dalla relazione P2 più 2 Pc più Q2 uguale 1, dove P è la frequenza di un alil A e Q la frequenza dell'altro alil A, ammettendo che nel pull genico della popolazione ci siano solo quei due alleli, e che quindi P più Q uguale 1. P2 indica la frequenza di omozigoti per A, 2 Pc al frequenza di eterozigoti A Q2 la frequenza di omozigoti per A. Nel caso di più di due alleli per un certo gene nel pull genico della popolazione, alleli a multipla, la legge è comunque applicabile. Anche se l'equazione all'equilibrio è più complessa, nella realtà, non esiste una popolazione che rispetti questi limiti, dove non vi siano mutazioni. Questa legge è però molto importante, perché permette di stimare l'entità del cambiamento dovuto a questi fattori e trovarne le cause. Per esempio si possono calcolare le frequenze alleliche di una popolazione, che quindi in una popolazione ideale rimarranno costanti. Nel tempo, eseguendo questi calcoli per più generazioni, è possibile individuare le variazioni nel pull genico tra la popolazione. Ideale, secondo Hardy-Weinberg, è quella reale, calcolata, e cercare di stabilirne le cause. I processi riproduttivi esistono due modalità riproduttive. 1. Assessuata, agamica. Da un solo organismo se ne formano due identici. Per amitosi o per mitosi. La quantità di DNA rimane costante, e i discendenti hanno le stesse caratteristiche genetiche degli ascendenti. Questo sistema è importante per l'estensione di una popolazione, o la rigenerazione di certi organi o tessuti. 2. Sessuale, gamica. Da due organismi ne nasce uno, grazie a cellule sessuali, gameti, altamente specifiche, tramite la meosi. Essa garantisce una ricombinazione dei caratteri ereditari, che permette la formazione di ibridi, con maggior potere adattativo, nel ambito della selezione naturale.